Allora, sono venuto molto volentieri a significare a massimo la nostra stima, la nostra assoluta convinzione che sarà per Pietrasanta e per tutta la Versilia una cosa importante avere un rinnovo di un'amministrazione che ha portato Pietrasanta e quindi i cittadini di Pietrasanta a pagare le tasse più alte della Toscana. Il miglioramento del benessere dei cittadini e a quelle opere che attireranno ancora più turisti che è una delle ricchezze e delle trate, oltre all'artigianato, sul mare, le cave, eccetera.